Stefano Romito, 39 anni, maggiore dell'aeronautica e Rodolfo Mandò, 47 anni, tecnico radiologo, erano in buone condizioni di salute quando domenica scorsa si trovavano sull'ultraleggero precipitato in Pratomagno. I due erano partiti a metà pomeriggio dal campo volo di Valle Alpero a Cavriglia e dopo aver attraversato il Valdarno avevano raggiunto l'altro dorsale. In prossimità di Moedine, nel comune di Loiro-Ciuffenna, l'aereo aveva perso quota e si era schiantato in un bosco fittissimo. L'ipotesi malore è stata dunque totalmente esclusa dall'equip di medicina legale di Siena, che aveva effettuato l'autopsia sui corpi dei due piloti morti nell'incidente. A questo punto, visto che il velivolo era sprovvisto di scatola nera, servirà il parere di un consulente tecnico per capire cosa ne abbia causato la caduta con conseguente morte dei due valdarnesi. conduce le indagini a posto sotto sequestro l'intera area tra Montrango e Moedine, nel comune di Loiro-Ciuffenna, il teatro dell'incidente, per consentire così al consulente accertamenti non solo sulla carcassa dell'ultraleggero, ma anche sulla zona dove è precipitato. Al momento dell'incidente, i comandi c'era Rodolfo Mandocco, un proprietario con un amico del velivolo dotato però di doppi comandi come quelli utilizzati per l'addestramento.